Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Inizia il terzo episodio della storia sacra. Caino e Abele, il diluvio. Caino e Abele Scacciati dal paradiso terrestre, Adamo ed Eva cominciarono a guadagnarsi il pane col sudore della fronte. Nel loro dolore essi furono rallegrati dalla nascita di due figlioli, Caino e Abele, i quali, cresciuti in età, condivisero con loro la vita e il lavoro. Caino coltivava la terra, Abele pascolava il gregge. Ma quanta differenza fra loro! Caino era cattivo ed egoista, Abele buono e generoso. Entrambi offrivano al Signore il frutto del proprio lavoro. Ma Caino offriva i frutti meno buoni, Abele invece i migliori agnelli. Il Signore mostrò di gradire le offerte di Abele, non quelle di Caino. Questi si indispettì. Allora il Signore gli disse, perché sei crucciato e vai con la testa bassa? Non è vero che se ho per il bene avrai pace, e se fai il male il peccato sarà subito alla tua porta? Caino non ascoltò la voce di Dio. Un giorno, accecato dall'invidia, invitò il fratello in campagna. Abele, sempre buono, accondiscese. Ma giunti in aperta campagna, Caino si avventò contro di lui e lo uccise. Subito la voce di Dio si fece udire. Caino, dov'è Abele tuo fratello? Non lo so, rispose arrogante Caino. Sono io forse il custode di mio fratello? Ma il Dio soggiunse. Che hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Tu sarai maledetto e infelice per tutta la vita. Caino scappò via. Andò errando per il mondo senza mai trovare pace. I suoi figli furono empi e malvagi. L'innocente Abele è figura di Gesù, che viene ucciso da uomini malvagi. Il diluvio universale Col tempo gli uomini si moltiplicarono sulla terra e con essi anche i vizi e i peccati. I loro pensieri erano tutti rivolti al male, tanto che il Dio si pentì di avere fatto l'uomo, e disse Lo sterminerò dalla faccia della terra. Fra tanta corruzione era rimasta buona una sola famiglia, quella di Noè. Il Signore disse a Noè Noè si mise all'opera. I cattivi lo deridevano. Ma quando l'arca fu pronta, e Noè si fu chiuso dentro, il Dio aprì le cateratte del cielo e fece piovere a dirotto per quaranta giorni e quaranta notti. L'inondazione fu grande e spaventosa. Le acque si innalzarono fino ai monti, sommergendo ogni cosa. Tutti i viventi perirono, ma l'arca galleggiava sulle acque. Cessato il diluvio, Dio mandò un vento fortissimo, e le acque cominciarono a diminuire. Per assicurarsi che la terra fosse asciutta, Noè mandò fuori una colomba, la quale tornò a lui con un ramoscello d'olivo nel becco. Così Noè conobbe che la terra era asciutta. Allora, per comando di Dio, egli uscì dall'arca con tutta la sua famiglia, e pieno di riconoscenza offrì al Signore un olocausto dei migliori animali. Il Signore lo gradì e promise che non avrebbe mai più mandato sulla terra quel castigo. E pose l'arcobaleno come segno di pace. L'arca è la figura della chiesa fuori della quale non c'è salvezza. Sia lodato Gesù Cristo Grazie.